È lunedì oggi, giusto? Sì, 3 giugno, inizia anche un mese, quindi tra parentesi è lunedì e lunedì, cioè ogni volta che c'è un lunedì con cui si apre un mese, insomma, è un super lunedì, diciamo, e un super lunedì non può che avere un super buon lavoro, un super buongiorno, un super top, anzi in questo caso, top voice di LinkedIn, come Filippo Apoletti, che ci racconta un po' tutto il mondo del lavoro, lo fa tutti i giorni, lui sul suo profilo Instagram, cioè su LinkedIn, ma lo fa anche tutti i lunedì, qui in diretta con noi. E allora ascoltiamo dalla voce di Filippo Apoletti il buon lavoro di oggi, lunedì 3 giugno. Buon lavoro a tutti, la prima parola della settimana è meno ore, meno ore di lavoro stesso stipendio, 37 ore alla settimana, dove accade a Unicredit a partire dal 1 luglio del 2024. Dunque alle lavoratrici e ai lavoratori sarà concessa un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, che sarà ridistribuito settimanalmente su base di 37 ore. E' la rivoluzione del settore bancario. Ricordiamo ad esempio l'esperimento di Intesa San Paolo, che ha introdotto il 4x9. Che cos'è il 4x9? Quattro giorni di lavoro a nove ore al giorno, ovviamente su base volontaria. Seguiamo questi esperimenti. La seconda parola chiave della settimana è test universitari. E se fosse l'azienda, la nostra azienda, a pagare i corsi di preparazione per i test universitari dei nostri figli? Ebbene, corsi gratuiti dove? Al centro congressi di Belluno, per gli studenti del quarto anno oppure che stanno per conseguire la maturità. Ascoltiamo le parole di Luxottica, l'azienda che propone questa misura. La possibilità di formare professionisti qualificati contribuirà a che cosa? Al progresso dell'intero settore dell'I-U-R. Bene, bene, benissimo. La terza e ultima parola chiave della settimana è gentilezza. Bene, rileggiamo le parole di Guido Stratta, presidente dell'Accademia della Gentilezza. La gentilezza, dice Stratta, non è educazione e non è buone maniere, ma è fare spontaneamente un gesto, grazie al quale l'altro riceve un beneficio, ovviamente senza tornaconto da parte di chi è gentile. Dunque, dunque, ricordiamolo, le relazioni sono la base, il fondamento della nostra società. E affinché, è molto semplice, la nostra società possa migliorare, dobbiamo migliorare le relazioni. Bravo, bravo, Guido. E allora, buon lavoro a tutti. Ricordatevi di scrivermi, 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 dove? Su LinkedIn o LinkedIn raccontatemi le vostre esperienze di lavoro. Ancora una volta, buon lavoro a tutti. Grazie a tutti.